L'intervento dei Vigili del Fuoco di Torino sta Maurizio Canavese e Volpiano questa sera, giovedì 7 dicembre, intorno alle 19, presso la stazione di Borgaro Torinese. L'allerta è scattata per un incendio divampato all'interno di un capannone in disuso situato nei pressi della ferrovia nell'area industriale. A bruciare una serie di masserizie, immondizie, alenia, niente di pericoloso, ma il fumo e l'odore acre hanno invaso la ferrovia e l'abitazione di Ecenti. I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo e proceduto la messa in sicurezza. Sconosciute le cause.